Ciao a tutti oggi preparo spigole sfilettate con ripieno di pane e altri ingredienti inizio metto un po' d'olio nella pionda, un po' di vino bianco poi ho preparato 300 grammi di pane a mollo, 4 pomodorini fatti a pezzetti, prezzemolo e aglio tritato, 10-20 grammi di olive fatti a pezzettini, metto la buccia grattugiata di un limone, oligo, sale, olio e un po' di pepe e inizio, pane a mollato che ho già precedentemente ammollato, 100 grammi di pane, metto i pomodorini, il prezzemolo e l'aglio tritati, l'olio che ho fatto a pezzettini, 20 grammi, metto il gim endlich i nodi come il vicino di الذي fa viene pronta di mollo e ovio napiore, putting ho 18 grammi di doctorate Metto l'oregano, il pepe nero e un po' d'olio. E un po' di vino bianco. Dopo aver meschiato tutto, aggiungo i filetti di spevola nel pirofio. Salo e spegole. E metto sopra il pane. Pronti da infornare. L'inforno a 200 gradi. Dopo 15 minuti di cottura, impiettiamo con un po' di verdura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.